Non è neanche più pareggio, pareggio non ha perso Ma perché è andato di fuoco? Abbiamo assistito alle comiche Non ci credo. Siamo a un cilettronico. Come è andato in fogo? Voi lo sapete. È andato a trovare la moglie. Mica, partito di calcio sbizzero. Ragazzi, i due contrafetti che ho visto da insieme.